Poi dopo Dopo vi metto su YouTube Hai visto i filmati su YouTube del Motoclub? Eh no L'ho messo io Vai a vedere Non so come si va a metterli Eh no li metto io perchè io mi sono iscritto Guarda qui il prossimo moto Guarda quante moto che ci sono Pocca miseria Dai dai quante moto che ci sono Se lei è un concessionario Lei è un concessionario Lei è un concessionario E' un concessionario Fanno tutti i controlli Grazie Grazie